Questo matrimonio non sa da fare. La celebre frase presa dai promessi sposi calza a pennello per descrivere l'attuale situazione politica a diamante in vista delle elezioni ed in particolar modo il rapporto tra il gruppo insieme e il movimento per una diamante migliore. Pare non ci sia corrispondenza di amorosi sensi, giusto per scomodare un altro concetto caro alla letteratura italiana tra i due soggetti politici e che più in generale la via del movimento sia quella già tracciata anni addietro, una lista autonoma. D'altra parte, il prossimo 8 febbraio, come annunciato da tempo, il movimento aveva in programma il primo comizio per annunciare il nome del capolista e parte dei candidati. Comizio che salterà per motivi burocratici, intoppi che non intralciano il cammino del movimento, che in ogni caso risponderà alla lettera inviatagli dal gruppo insieme. Continua quindi il nuovo trend epistolare che sta affiancando il vecchio metodo degli incontri poco pubblici. Il gruppo insieme ieri ha reso pubblica la missiva inviata al movimento che in estrema sintesi invitava a trovare i famosi punti di contatto per formare una coalizione. Magari con capolista Sergio Gimigliano, citato in un passaggio della lettera come esempio di chi si è speso per proporre l'immagine di una calabria positiva partendo da Diamante. Il movimento ci ha fatto sapere il portavoce Antonio Cauteruccio, come ha già fatto con Diamante Futura, incontrerà il gruppo insieme e poi renderà pubblico il contenuto dell'incontro, ma i presupposti per una fusione non sembrano sussistere. Uno degli ultimi punti su cui le idee dei due schialamenti sono apparse molto distanti è stato il caso Tares. Il gruppo consigliare insieme ha chiesto l'annullamento della determina dopo aver approvato gli atti che ne avevano generato il regolamento e le tariffe. Insomma, il matrimonio pare molto difficile, anche perché ad ostacolarlo non ci sono bravi o don Rodrigo di turno, ma è proprio uno dei due promessi sposi a non gradire l'unione. A meno di uno stravolgimento della trama è della venuta di un don abbondio meno pavido di quello descritto dal Manzoni e con maggiori capacità diplomatiche.